Allora nonna, c'è il discorso di augurale del primo dell'anno come presidente della Repubblica indipendente di Rotecastello, vai, la regina, dai, la regina, fai gli auguri di buon anno a tutti, buon anno a tutti, dalle persone per bene, con l'ignorante no. Grande nonna, ci vuoi di altro? Cioè stasera c'è il presidente della Repubblica che si mette al tavolino, Salvini e Di Maglio insieme che si mettono al tavolino, tu è mezzogiorno, stavamo a coce il piccione, abbiamo fatti i frettini, la galantina, insomma per stasera tutto quanto, no? Per Savini. No, per Savini, stasera viene a cena da noi. Eh beh. Eh, scusa, mi ha dato. Magari ci venisse a cena, aspetta. Eh, che gli dai? Io il manico della scopa gli dico, guarda, queste sono quelle che ti hai dato dai nostri parenti, da tutti quanti. Magna questo e cammina. No, 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 seriamente, ma tu lo faresti mangiato? Se vieni qui a Monte Castello, tu non lo faresti mangiato? No, secondo me no. E che gli dici? Io dico, se tu fai quello che hanno fatto, quello dell'idea tua, meglio che cammini perché se no ti crozio. Ma c'è anche Di Maglio insieme a lui, no? Capito chi è Di Maglio? Qual è Di Maglio? Quello dei 5 Stelle. Ma tanto qui il ridarello che dice che cresce, ah, adesso cresciamo la pensione, tagli invalidi, uno gli ha risposto che c'è stata cosa a Roma, non so di chi era, mi sa di chi era, gli ha detto, dice, ancora ci credete? Dice a quello che dice quello studio di Salvini, Salvini chi è? Stanno insieme, no? Eh. Con chi? Con Salvini e Di Maglio, stanno insieme. Stanno insieme ma sono tu e non capisco niente. Va bene. Allora quindi o no, faccio il suo saluto. Scusa, l'Evisabetta? L'Evisabetta, se ero io, aiutavo da tanti figli, invece è andato in quella carrozza, a fare vedere con quella cappella e sti figli che stanno belle scalze a piangere. Vuoi saluto anche il Papa a questo punto? Ma te lo vorresti no. Ma stanno, stanno, sono ero e ci stanno due Papi, tu vorresti di qualcosa se ci stanno due Papi? No, no, perché quello tedesco non ci piace. Ma mamma mia coca. Ma non c'è più quello puraccio. Ma non c'è più puraccio quello tedesco. Beh, ho capito, ma puraccio. Ma tu non sa perché quello che hanno fatto i tedeschi. Eh, io so. Sì, ma che mi ho detto, sai, io ci sono amici per carità. Capito, no, ma sono finiti i tempi della guerra. No, no, sono finiti. Non te lo preoccupate, sono finiti. Però questa, se mi dice una parola sballata, io dico, senti, sai, è una tedesca e tanto basta. Basta. Va bene o no? Auguro a tutti buon anno e buone feste. Buon anno e buone feste, quindi per bene quelli ignoranti no. Ok, ciao donna.